8 e 33 minuti, bentornati a Good Morning Milano, bentornati a Crystal Radio, la musica di Crystal Radio, vi ricordiamo anche il nostro numero di Whatsapp, 3317853555, grazie a coloro che ci stanno scrivendo in questo istante, grazie per il buongiorno da Marco e da Lucia, grazie mille ad entrambi, buongiorno anche a voi e buon lavoro. Abbiamo un nostro ospite in collegamento, lo sentite anche dal tappetino musicale a cuore dell'ospite, quindi abbiamo con noi Alessandra Custerman, buongiorno Custerman. Buongiorno, ben trovata, ben trovata, allora, oggi è una giornata delle cascine, abbiamo parlato prima di cascine all'interno, adesso parliamo di un'altra cascina, di tutt'altro tenore, di tutt'altra progettualità parliamo, però appunto è interessante vedere come le cascine, che sono un pezzo fondamentale di Milano, perché sono veramente le fondamenta della nostra città, ritornano protagoniste con vari progetti, in questo caso parliamo di cascina rinascita. Custerman, come possiamo spiegarlo, cascina rinascita, a chi magari è stato distratto in questo momento e non sa di cosa stiamo parlando? Pochi secondo me, perché è veramente un progetto così importante che lo sanno tutti. Allora, cascina rinascita è un progetto di duecenti antiviolenza di Milano, SVS Donna aiutadonna di cui sono presidente io e casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano, CADMI, di cui è presidente Emanuele Olivi e con tutte le persone che lavorano con noi, molte volontarie, alcune anche assunte, per cui non siamo solamente centro antiviolenza, ma favoriamo anche il lavoro delle donne. Abbiamo pensato di trovare in questa cascina il luogo dove consentire alle donne che hanno deciso di uscire da una vita di violenza e da parte del partner, un luogo appunto per costruirsi una vita libera dalla violenza, ecco perché rinascita, nascere di nuovo. Quindi è un luogo bello, immerso tra due parchi della città di Milano, il parco della Vettabia e il parco Porto di Mare, che era un tempo noto come il boschetto della droga di Rogoredo, rimesso a posto da Italia Nostra in modo magnifico. Questa cascina è molto grande, sono 2.600 metri quadri coperti e 30.000 di parco e insieme all'associazione sportiva Campacavallo, che attualmente è localizzata al parco Trenno, abbiamo pensato a un progetto che includa 90 donne in uscita dalla violenza, che hanno bisogno di trovare un lavoro, di riciclarsi nel mondo del lavoro dopo anni di disoccupazione. Tenete presente che il 64% delle donne che subiscono violenze in ambito familiare è disoccupata, ma è disoccupata non per libera scelta, ma perché molto spesso questo fa parte della situazione di maltrattamento che riceve all'interno della famiglia. Una cosa è scegliere personalmente di non andare a lavorare perché si hanno avuto dei figli, e un'altra essere indotta, manipolata fino al punto di lasciare il lavoro al momento della nascita dei figli dal proprio partner. È chiaro che è ancora più difficile per donne che hanno figli, magari ancora molto piccoli, riuscire a riciclarsi nel mondo del lavoro, dico riciclarsi perché alcune di loro magari avevano già avuto un lavoro come impiegate, magari avevano raggiunto anche un diploma importante a scuola, ma a questo punto sono fuori dal mondo del lavoro da 10-15 anni e diventa molto difficile riuscire a farlo assumere. Per cui da un lato noi lavoreremo con loro come già facciamo nei scenti antiviolenza, dando aiuti psicologici se necessari, aiuti sociali, educatrici per aiutarle a salvare i bambini dalla violenza a cui hanno assistito dal padre e dall'altra invece creeremo all'interno di questa cascina varie opportunità lavorative. Abbiamo iniziato i lavori di restauro il 20 dicembre, è previsto che riusciamo a finirli in 13-14 mesi, quindi noi ci auguriamo di aprire questa prima parte della cascina alla città entro marzo-aprile del 2025 e abbiamo iniziato proprio con la parte di cascina molto bella, la villa padronale, che affaccia su una corte lombarda storica protetta dalle belle arti e un altro edificio molto disastrato e lì costruiremo le residenze, appartamenti individuali per 10 donne con figli e per altre 4 donne senza figli. Assumeremo queste donne perché in contemporanea ristrutturiamo la parte della villa padronale che consentirà di costruire un ristorante e un bar bistro e insegnare alle donne a lavorare nell'ambito del food che a Milano è uno dei pochi lavori purtroppo che è richiesto, visto che non abbiamo più fabbriche. Siamo la città del food and beverage ormai. Infatti purtroppo sì, però va bene, cerchiamo di sfruttare questa opportunità dando alle donne un lavoro di qualità. Nella cascina ci sarà un ristorante gestito da una chef stellata, ovviamente non avrà i prezzi di un ristorante stellato, che avrà un cibo di alta qualità e nel bar bistro i prezzi saranno anche inferiori. Questo consentirà a circa 18 donne di essere assunti per un anno all'interno di questa ristorazione e altre 18 donne contemporaneamente di prepararsi con tirocini e formazione per poi essere assunte. L'idea è dare lavoro ogni anno quando saremo a regime a 90 donne, attraverso anche i laboratori appunto. Prima ho sentito che ha citato la pet therapy, faremo un asilo diurno per cani. I cani sono a Milano una specie estremamente frequente da incontrare per strada con dog sitter non preparati. Noi invece insegneremo alle donne ad addestrare i cani e a fare le dog sitter con più competenza professionale, anche questo è un mestiere possibile. E poi con gli artigiani volevo dire una cosa, faremo anche lavori che a Milano stanno scomprendo, lavori artigianali, quindi restauro di mobili, benisteria di design, sartoria d'alta moda, possibilmente sempre con l'intento di dare alle donne lavori di qualità e con una possibilità di occupazione poi che consenta uno stipendio per cui possano vivere sia le donne che i loro figli. Perfetto, questa ma la interrompo solo un attimo perché andiamo con un pezzo di Madame e poi torniamo ancora qui a parlare perché io voglio capire bene anche come si si può rendere conto magari come può fare una donna, so che è una domanda da 100 milioni di dollari, però quali sono i campani d'allarme per capire di non finire magari in certe situazioni o come si può anche aiutare tra donne magari per far capire all'amica, alla sorella, alla cugina che insomma magari non hai scelto di stare a casa appunto come diciamo prima dal lavoro ma ti ci sei ritrovata perché c'era un progetto dietro che tanto non ha preso in considerazione invece la tua vera aspirazione. Ne parliamo a fa pochissimo, Laura Custerman, sempre qui in diretta, grazie. Andiamo con Madame con voce. Madame con voce e la voce che invece sentite qui con noi collegata è quella di Alessandra Custerman appunto del progetto della cascina rinascita, una vita dedicata però diciamo alle donne che subiscono violenze. Custerman esagero a dire così? No, non esagero, non solo alle donne che subiscono violenza ma anche alle donne che decidono di scegliere di non essere madri. Ecco, che è un altro tema interessante soprattutto in questo periodo dove com'è che è la vostra massima aspirazione è quella di avere una figlia? Va bene, io sono d'accordo che per alcune donne è un'aspirazione importante, io stessa ho due figli, nipoti, cioè questo cosa vuol dire? Però ho potuto fare la mia vita lo stesso, senza essere condizionata a pensare che il benessere dei figli è l'unico bene supremo per le donne. Chiarissimo. Parlavamo proprio anche, e anche questo rientra appunto un po' nel tema della domanda difficile che l'ho fatto prima della pausa, abbiamo parlato di donne che ad esempio subiscono una, perché proprio violenza è violenza, cioè non sempre la violenza è una violenza fisica, cioè se volentieri è una violenza psicologica, altre volte è una violenza nell'isolare la persona, isolare la donna dal mondo esterno, non facendo andare a lavorare, tagliando i ponti con amiche, amici, a volte anche parenti, e ci sono però dei piccoli campanelli d'allarme che possono far capire questa cosa. Come possiamo capirlo e magari cosa possiamo fare se vediamo che qualcuno non se ne accorge, e non credo che possa andare a dire, guarda che non va bene, cioè come posso fare? Allora il problema è cogliere i campanelli d'allarme in anticipo, quindi prevenire che si instauri una coppia in cui il partner è un maltrattante. Allora, ci sono dei campanelli d'allarme che noi che lavoriamo nei centri antiviolenza insegniamo alle donne a cogliere, ma soprattutto andiamo nelle scuole a parlarne ai ragazzi e alle ragazze. Vi cito i campanelli d'allarme e spero che ve li ricordiate. A volte è il ricatto dell'indifferenza, tu non fai quello che voglio io, io allora non ti telefono per una settimana, ti punisco, come se in una relazione amorosa ci potesse essere una punizione. Poi ci sono ricatti di altro tipo, se ti vesti in questo modo, se parli con gli amici, se frequenti una compagnia su cui io non sono d'accordo, io ti lascio. Poi c'è l'umiliazione, se è una scema non sei capace, se è una pessima madre, se è una pessima moglie non sai nemmeno far l'amore bene. Poi c'è la manipolazione, è vero che tu desideri stare con me tutti i santi giorni per 300 minuti al giorno di telefonate tra me e te, questo è il vero amore, l'unico amore che esiste. Poi c'è la gelosia, una gelosia morbosa, una gelosia che impedisce di vivere. Io dico sempre alle ragazze che non esiste una dose minima di gelosia accettabile, l'amore è fatto di comprensione, di fiducia reciproca. La gelosia è la dimostrazione che non c'è fiducia nell'altro. Poi c'è il controllo, il controllo ossessivo sui social della ragazza. Parlo di ragazze perché purtroppo la maggioranza dei rapporti maltrattanti a un uomo come autore. Può succedere anche che sia una donna, ma è un evento veramente molto raro nella mia esperienza. Noi vediamo mille casi di donne l'anno, abbiamo fatto delle indagini per capire qual è la prevalenza della violenza in una coppia anche da parte di donne e purtroppo i dati sono sempre uguali, la maggioranza dei casi riguarda donne e ragazze. Poi c'è l'intrusione, l'intrusione dei social, appropriarsi delle password per esempio. Questa è una cosa che succede molto più frequentemente in quanto noi pensiamo. Poi c'è l'isolamento a cui viene costretta questa ragazza e questa donna, quindi abbandona le amicizie. A volte addirittura, come è successo in un caso recentemente in Sicilia, veniva costretta a entrare a scuola alla seconda ora così non si fermava a chiacchierare con i compagni fuori della scuola o fuori della classe. Scusa, una cosa però, se andava a scuola era giovanissima tra parentesi. Quindi 16 anni, infatti il giudice in questo caso a Trapani, che secondo me è una sentenza molto interessante, la madre ha denunciato per conto della figlia questo ragazzo per stalking, ma la ragazza continuava a dire io lo amo, e il risultato è stato che questo ragazzo metteva in atto comportamenti molto vessatori e molto umilianti per la ragazza e di isolamento. In questo caso è stato messo il braccialetto elettronico a lui in modo che non potesse avvicinarsi a più di 500 metri della ragazza e gli è stato impedito da un giudice di vederla. Non era un amore malato, non era proprio amore quello che la ragazza aveva nei confronti della ragazza. Allora, io mi rendo conto che noi pensiamo sempre che autori delle violenze siano gli adulti, non è così semplice. Autori delle violenze, per esempio a Milano, le condanne riguardano nel 40% dei casi per stalking, per violenza domestica e per violenza sessuale, giovani tra i 18 e i 35 anni. Quindi non c'è una generazione nuova che ci salverà dalla violenza, siamo noi che dobbiamo riuscire a entrare nelle scuole, fin dalle scuole materne, per insegnare ai bambini fin da piccoli la gentilezza e il rispetto dell'altro, la capacità di distinguere il fatto che una bambina non è da meno di un bambino, ma è semplicemente diversa. Diversa come aspettative, diversa come aspirazioni, come modalità di porsi. Riuscire a salvare una generazione futura, da riperpetuare la stessa violenza che hanno perpetuato gli uomini nei secoli, mi sembra molto importante. Detto questo, la maggioranza dei ragazzi, delle ragazze, per fortuna degli uomini, delle donne, adulti, non hanno violenza nell'ambito dei loro rapporti affettivi. Ma se vi accorgete che un rapporto affettivo sta diventando una relazione appunto nociva per quella ragazza e siete amici di quella ragazza, parlatene e soprattutto imparate voi maschi a parlare agli altri uomini in senso di deprecazione di quello che fanno. Quindi è importante che anche nei bars si chiaccheri di violenza, ma non con battute stupide, ma dicendo in modo chiaro noi siamo uomini che non accettiamo la violenza. È interessante, la chiacchiera da bar positiva mi sembra una cosa interessante su cui potremmo lavorare noi maschietti. Kusterman, io la ringrazio tantissimo. Prima di salutarci, 20 secondi, ci ricordi le coordinate per seguire il progetto della Cascina Rinascita e come poter anche magari dare una mano, aiutare, informarci bene? Allora, per riuscire a finire questo progetto che è veramente molto ambizioso, abbiamo bisogno di soldi, per cui vi invito tutti il 19 marzo a venire all'Umanitaria, dove offriremo un aperitivo fatto da una poca stellata, appunto, e raccoglieremo fondi per la nostra cascina. Potete andare sul sito www.svsdad.it o entrare direttamente nel progetto Cascina Rinascita e troverete la possibilità, se avete voglia, di fare donazioni. Anche i 10 euro sono ben accolti, visto il numero di donne che seguiamo ogni anno tra i duecenti antiviolenza, che sono appunto più di 1200 l'anno. Chiarissimo, Kusterman, grazie mille davvero per il suo contributo, grazie mille soprattutto per averci fatto capire quei campani d'allarme che sono veramente importanti e ne faremo buon uso e li impareremo tutti quanti, sia noi maschietti che sia appunto coloro le donne che ci stanno ascoltando che magari possono aiutarsi anche tra di loro, che forse è importante anche quello. La famosa solidarietà femminile deve esserci anche in questi casi. Kusterman, grazie mille, complimenti per quello che state facendo e bocca al lupo per tutto. Grazie a lei. Grazie mille, andiamo avanti con la musica, Sophie and the Giants, DNA insieme a Mercy.